Ciao a tutti, io sono Grizzly. In questo periodo va molto di moda cominciare questi vlog un pochino seriosi, con frasi ad effetto come «Beh, questo video io non lo volevo fare, eppure eccomi qua». No, voglio andare totalmente controcorrente, perché invece sì, questo video lo volevo fare come, era già da un po' di tempo che mi ero detto che lo avrei comunque realizzato. Ammetto tuttavia che avrei voluto fare questo video il più tardi possibile. Purtroppo questo momento è venuto, e dunque, appunto, eccomi qua. Oggi voglio parlarvi di Felipe. Felipe è stato un mio amico, un mio grandissimo amico, un amico di lunga data. Ho conosciuto Felipe quando avevo 18 anni, quando cominciavo a orientarmi nel mondo delle associazioni di volontariato e di protezione civile a Siracusa, quando avevo avuto la spinta di dire «Ehi, mi piacerebbe poter fare qualcosa che possa essere utile agli altri» e Felipe è stata la persona che mi ha letteralmente preso per mano e guidato all'interno del mondo della protezione civile. Se io oggi, a 40 anni, sono un volontario di protezione civile, credo tantissimo nel volontariato e cerco di partecipare attivamente a tutte le attività, lo devo soprattutto a lui, a Felipe, perché io sono cresciuto come persona e come volontario di protezione civile nel tempo, proprio grazie al fatto che ho avuto lui come guida. Felipe è una persona che ho incontrato, appunto, tantissimi anni fa, più di vent'anni fa. Era un professore di letteratura alle scuole superiori e l'ho sempre chiamato così. Era una cosa particolare, un vezzo che avevamo, perché il suo nome è Filippo, in effetti, ma sulla radiofrequenza lui si chiamava Felipe, e di persona tra di noi che ci conoscevamo grazie alla banda CB diceva «se ci diamo del «tu» sulla CB, come è giusto che avvenga, perché non si fanno distinzioni, allora è giusto darsi del «tu» anche di persona» e quindi, anche se lui mi chiamava per nome, gli dava fastidio essere chiamato «professore», quindi lo chiamavo Felipe, così come lo chiamavo sulla radiofrequenza. È stata una persona molto particolare nella mia vita, perché mi ha aiutato anche a superare dei momenti molto particolari della mia vita, e soprattutto è stato quel tipo di amico con il quale c'era il piacere di vedersi ogni tanto, sedersi davanti a un caffè, e farsi una semplice e bella chiacchierata, ricordando un po' il passato con nostalgia, ma anche parlando del futuro, parlando di come si stavano muovendo le cose nella tecnologia, nella cronaca, nella protezione civile, eccetera. Felipe è stato un utente molto attivo all'interno del mio blog Diario di Viaggio, sin dalla sua nascita nel lontano 2004, e pensate che in fondo il mio format Diario di Viaggio on the road è stato un modo di portare il mio blog, appunto su YouTube, di portarlo su una nuova piattaforma. E il mio blog era nato comunque con un'idea, quella di poter condividere il mio pensiero, ma non dire «va bene, questo è quello che penso io» e «non c'è niente da discutere», bensì proprio di dire «ok, questo è quello che penso io, ma voi che cosa ne pensate? Parliamone». Che in fondo è stata anche la filosofia di vita di Felipe per tantissimo tempo, infatti abbiamo sempre avuto molte discussioni molto interessanti, proprio perché avevamo questo scambio di opinioni, perché anche lui era una persona che sì, io effettivamente la penso così, ma non è che questo è un pensiero scolpito nel diamante che non si potrà più cambiare in nessun modo. È stata una persona, come ripeto, molto particolare, è stato un amico molto particolare, un amico con cui ci siamo visti veramente fino a pochissimi giorni fa, un amico di cui ricordo spesso il suo sorriso, soprattutto negli ultimi giorni quando gli parlai dell'idea che avevamo avuto io e Francesco. Come sapete, io e Francesco anni fa abbiamo pubblicato un romanzo, «L'essenza oltre il buio», e coltiviamo il sogno, coltiviamo l'idea di un giorno poter portare quel romanzo in un film. E ci sarebbe piaciuto tantissimo ci siamo immaginati, felipe, nella figura del capitano Federico Filetti, del comandante del brigantino della Front Cosmo, che è uno dei personaggi in fondo collaterali del romanzo, ma è uno dei personaggi che ha un rapporto più contrastuale con il personaggio principale. E soprattutto Felipe, i suoi gesti erano quelle cose che ci davano in mente di più, appunto, il comandante Filetti. Io e Francesco dicevamo... gli dissi io stesso. Ci siamo immaginati tutti e due, mentre si avvicina il professor McIntyre dopo che è stato messo Keller agli arresti... eh! Abbiamo messo agli arresti, eppure quel ragazzo continua ugualmente a salvarci il culo. E il comandante, no? E si alza il bavero dell'uniforme e si allontana, e ci siamo immaginati questo gesto, con quell'espressività che aveva tra il soddisfatto e il facendo, rispetto, Felipe, quando gli era capitato di trovarsi di fronte a una situazione del genere. E... e purtroppo era malato Felipe, combatteva con una serie di acciacchie di problemi, combatteva con una serie di farmaci da andare a prendere, quindi sapevamo... un po' ce l'aspettavamo, che prima o poi sarebbe finito tutto nel peggiore dei modi. Quindi in realtà ci aspettavamo questa notizia. Comunque questa notizia mi ha colto veramente tra capo e collo. E... è una cosa che mi lascia un vuoto dentro, veramente letteralmente incolmabile, perché, come ripeto, la mia crescita negli ultimi vent'anni... i miei ultimi vent'anni di vita sono stati un percorso abbastanza complesso, e... una parte di questo percorso io... una parte di questa strada io l'ho fatta assieme a Felipe. E... sono sicuro che mi mancherà tantissimo, perché... è quella categoria di amico... lo dico tranquillamente, non è stato quell'amico che se faceva un gesto arrivava, non era quel tipo di amico. Era semplicemente quell'amico con cui, come ripeto, ci si sedeva, si prendeva un caffè e si poteva chiacchierare amabilmente, solo per il piacere e per il gusto di farlo. E... comunque, ciò nonostante è stata una persona che ha significato tantissimo per la mia crescita culturale, per la mia crescita come volontario, per la mia crescita come persona. Gli devo tantissimo, e... so che mi mancherà veramente tanto. Filippo, non ho avuto modo di dirti addio nella maniera corretta, perché, pur sapendolo, non me lo sarei mai immaginato, quindi... questo video vuole essere il mio modo di dirti semplicemente ciao. Sentirò sicuramente la tua mancanza. ... ... ... ... ... ... ... ... ...